su su benvenuti in un nuovo video oggi voglio ritornare sul mio canale con una nuova challenge ovvero la don't move challenge quindi non muoverti per nessun motivo al mondo andremo a ascoltare queste dieci canzoni degli anni 2000 quindi i miei anni la sfida è proprio di non muovere un muscolo perché come mi muoverò avrò perso e quindi chi se ne frega e mi godrò la musica quindi io spero che insomma si vede mi sono tagliate i capelli mi sono tagliate i capelli fatto i più corti adesso mi arrivano proprio qua sulle mie spalline che con questa maglietta ci stanno benissimo i capelli di questa statura di questa statura di questa insomma i capelli così penso che siano proprio bene su queste magliette fatte con questo che cadono comunque sopra le spalle ok non perdiamoci in chiacchiere cominciamo con con questo video e vediamo se anche voi insomma riuscite a non muovermi a queste dieci canzoni dance anni 2000 e allora e allora e allora e allora Grazie a tutti. 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 Era impossibile rimanere come una mummia, cioè non ce l'ho fatta più perché erano proprio le canzoni di quando io ero veramente bambina. Avevo super giù 10 anni, 12-13, non di più, perché io a 16 anni ho già cominciato proprio a vivere la vita a 360 gradi, quindi uscendo proprio di casa e tutto il resto, le mie esperienze. Quindi invece prima ero un po' più chiusa a casa, giustamente una teenager, io penso che è quello che deve fare, rimanere a casa chiusa, anche perché ci sono molti pericoli. Quindi io spero di avervi tenuto compagnia e che anche voi conoscevate sicuramente queste canzoni. ci vediamo in un prossimo video, ci vediamo in un prossimo video, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! 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 Ciao!